E' stata una lunga camminata, ma finalmente eccoci arrivati a Rivet City. Buongiorno, compari! Il mio benvenuto a Rivet City. Attendi mentre il ponte si allunga. D'accordo, la ringrazio. Mi aspettavo un ponte elevatoio, non un ponte a scorrimento. Eccoci arrivati! Aspetta, esponi il tuo problema a Rivet City. Sono qui per cercare mio padre. No, non è vero, sono qui per cercare la dottoressa Lee. Sì? Fammi indovinare. No, non ti sta aspettando, ma è davvero importante e tu hai bisogno di vederla subito. Bravo, hai capito subito! Ne sono stati tanti nei paraggi di recente. E ne ho avuto abbastanza. Quindi dovrai far di meglio. Devo chiederle di mio padre. Uno più vecchio, più o meno sulla cinquantina? All'incirca. Ve lo ricordo. E' già andato via, ma la dottoressa Lee potrebbe saperne di più. Va bene, puoi salire. Sarà nel laboratorio scientifico. Basta che non fai casini, o altrimenti ne risponderai a me. D'accordo capo. Grazie. Lei è una persona molto comprensiva. Ed ecco l'anima di un posto quando viaggio. Il mercato. Quale posto migliore per scoprire novità? E tutto ciò che c'è di nascosto di una città. Dunque, che cosa avete di bello per me? Oh oh, buongiorno Tesla Binkannon. Di nuovo gratuito come in ogni posto in cui sono andato. Beh, visto che me lo regalate, penso che lo comprerò e poi ve lo rivenderò. Il mio benvenuto al Potomac abbigliamento. Sono Bannon, il proprietario, e faccio parte del consiglio comunale. Ciao Bannon. Vendo abbigliamento di qualità per clienti esigenti. E io sono un cliente esigente. Vedo che hai della bella roba, ma la roba migliore penso che sia per le signorine. E non credo che a me vadano bene. Oh, la madonna quanto siamo forniti di droghe qui. Te invece che vendi? Robaccia? Allora Fra, sei qualcosa di un androide che è scappato? Shhh, forse ci stanno ascoltando. Il Commonwealth ha cercato di farla passare come una truffa, ma l'androide scappato esiste davvero. Mmh, dimmi pure. Ascolti il solo nastro, ti trasformerai in credente. Mmh, perché mi sa tanto di cagata quella che dici? Espositore per bamboline, ma io ce l'ho già. Però effettivamente quello che ho a casa non me l'espone, per qualche motivo. Griglia da campo, mi stai dicendo che posso cucinare la roba? Infermeria portate, laboratorio portate, allora non vendi solo cialtronate. Purificatore dell'acqua, e la madonna. Pensavo vendessi solo cagate, invece qualcosa di utile c'è. D'accordo, è stato un bel giro quello nel mercato. E ora vediamo un ognomo che controlla tutto quanto. È il momento di tornare al lavoro. Avete bisogno di aiuto? Vi serve un po' di luce? Eccoci finalmente nel laboratorio scientifico. Senti, dottor Zimmer, ne abbiamo già parlato. Non sappiamo nulla del tuo robot in fuga, né ci interessa. Il laboratorio deve risolvere problemi reali. Sì, sì, sì. Ma la dottoressa Lee? La dottoressa Lee sta cercando di salvare vite, e le tue continue interruzioni ostacolano il suo lavoro. E ora, per piacere, fatti da parte. Sono certo che il lavoro del dottore con la purificazione dell'acqua sia affascinante. Ma sapessi cosa c'è in ballo? La tecnologia in quell'androide? Cosa c'è in ballo? Tu non vuoi dirmi cosa c'è in ballo. Stranezze e misteri. Un robot è un robot, Zimmer, anche se ha una bella vernice. E ora prego. Ignoranza e spiritosaggine. Siete capaci solo di questo? Una bella mano di vernice, davvero. Non puoi neanche immaginare le imprese del comodo. Eh già. Senti, se sei così in gamba, perché non aiuti noi? Ma no, non ti è nemmeno passato per la mente. Vai a spargere altrove il tuo egoismo. Beh, non a tutti i torti, sai? Bene, ma non me ne andrò. Non prima di aver parlato con la dottoressa Lee. Sarò qui quando smetterà di giocare al piccolo chimico e parlerà di scienza. Duh. Fa come ti pare. Beh, se vuole io posso ascoltare. Cosa sei? Una sorta di assistente di laboratorio? No, hai un aspetto un po' più stagionato. Senti, chi parla? Sembra una peracotta. Per caso sei disponibile? Sto ascoltando. Potrebbe essere l'opportunità della vita per te. Ho riposto male una proprietà molto delicata. E tu mi aiuterai a trovarla. Vai al punto, dimmi di cosa si tratta. Dovrei cercare un androide. Sai cos'è un androide? No, suppongo di no. Io suppongo di sì. Ciò che sai dei robot si limita a quei secchi di bulloni. Quei signor stringimi la mano e simili. Beh, un robot può essere anche altro. Nel Commonwealth. Nel Commonwealth è un posto lontano. Che pensano e sentono in base a come li programmiamo. E talvolta diventano confusi e iniziano a vagare. Sei un po' tanto vago su quello che è un androide, tra virgolette. Sei sicuro che non se ne vadano? Idiozie. Stiamo parlando di una macchina. Puoi forse asservire un generatore o un purificatore d'acqua. Hai detto tu che sono due cose diverse. Vale lo stesso principio. Certo, come no? Ma torniamo alla nostra missione. Devi trovare l'androide scomparso. Ne ho seguito le tracce fin qui nella zona contaminata della capitale. Deve aver fatto qualcosa di drastico, tipo chirurgia facciale e lavaggio del cervello. Altrimenti a quest'ora l'avrei trovato. Ma non hai per caso un codice per resettarlo? E allora dimmi, verrò pagato per questo? Spiacente, me ne sono dimenticato. L'avanzata tecnologia del Commonwealth è a mia disposizione. Vorrei dartene un po'. Pensaci, saresti il più invidiato tra i tuoi amici. Tra i miei pochi amici che ho. D'accordo, cercherò il tuo androide. Ottimo! Trova il mio androide e non te ne pentirai. Santo cielo, sei irritante quanto intelligente. Molto bene. Ti dirò ciò che vuoi sapere. Se ti può aiutare a localizzare la mia proprietà. D'accordo, dimmi tutto. Quella particolare unità aveva il compito di dare la caccia e catturare gli altri androidi fuggiti. Sì, altre sono fuggiti. Un cacciatore scappato, eh? È uno degli effetti collaterali di avere una IA così avanzata. Le macchine iniziano a pensare da solo. E allora vedi che non siamo scemi? Si ingangano pensando di avere dei diritti. Certo che ce li hanno. Questo particolare androide potrebbe aver creduto di aver fatto qualcosa di sbagliato, immorale e voleva dimenticare la cosa. Ok? Sì, sono soddisfatto. Allora, lei dovrebbe essere la dottoressa lì. È un'area ad accesso limitato. Ne ho abbastanza di ripeterlo. Io... Sei tu. Santo cielo, gli assomigli tantissimo. E tu sei invecchiata malissimo. Che ci fai qui? Beh, sai, giravo un po' la capitale. Mi è passata l'idea di passare da qua. Secondo te, dov'è mio padre? Beh, sì, certo. Non sai chi sono? Immagino che James non ti abbia mai parlato di me. Ovvio, no? Tipico. Ormai. Sono la dottoressa Madison Lee. Ho lavorato con tuo padre molti anni fa. Anche con tua madre, in realtà. Devi scusarmi. È stato tutto così stressante. Con tuo padre che si presenta qui all'improvviso dopo tanto tempo. Beh, pensa. Da te si è presentato, da me se n'è andato. Gettammo tutto dietro le spalle. Il progetto purezza, il lavoro, tutto. Siamo andati avanti, anche se tuo padre non l'ha fatto. Beh, e tu hai idea di dove si trovi ora? Vuoi dire che non l'hai trovato? Pensavo che ti avesse mandato lui qui. Quanto a questo, tu non dovresti essere in un vault. James ha detto di averti lasciato là. Sì, se non fosse che ha fatto scattare l'allarme, mi hanno cercato di uccidere. Avevo l'impressione che fosse esattamente all'opposto di quel che lui desiderava. Beh, lui non mi ha detto nulla di quello che desiderava, quindi... È venuto ed è già ripartito. Che novità. Allora sai dove è andato? Suo padre ha insistito perché tornassimo a lavorare al progetto purezza. Ho cercato di dirgli che è passato troppo tempo. Non può funzionare. Come previsto, si è rifiutato di ascoltarmi. Dice che può dimostrare che funzionerà. E si è diretto al vecchio laboratorio. Fantastico. Mi spiace. Non so cos'altro dirti. Sai dov'è questo laboratorio allora? È nel vecchio Jefferson Memorial, a nord-ovest di qui. Ti prego non andare a cercarlo. È stato assurdo da parte sua anche il solo pensare di andare là da solo. Beh, ci farò un salto. Oh, quell'uomo non ti avrà chiesto di cercargli il suo animaletto androide. Gli ho già detto di piantarla. Mi sta distraendo tutta la squadra. Beh, adesso distrae me, quindi... Beh, dottoressa, devo andare. Ti auguro di trovare tuo padre. Me lo auguro anche io. Oh, ma guarda, una bambolina. Oh, ma andiamo. Devo sacrificare qualcosa per avere questa bambolina. Ma siamo seri? Da, lascia perdere. Che mondo difficile quello delle mod. Detto questo, però, potrebbe essere interessante avere qualche pezzo direttamente dal Commonwealth. Andiamo a cercare qualcuno. Allora, dottore, per caso lei fa della chirurgia plastica? Ho sentito che il vecchio Pinkerton a Rivet City ha riuscito a procurarsi in qualche modo un lipoplasticatore e un graft microdermico. Beh, non so cosa siano, ma penso che mi aiuteranno. Oh, 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 che succede? Cos'è sto buio? Che è sta saturazione iper... Oh, che succede? Cos'è sta oscurità? Aiuto! Qualcuno riaccende la luce? Beh, allora devo trovare questo dottor Pinkerton. Sto cercando il signor Pinkerton. Sa dov'è? Non credere alle voci. Il suo spirito sicuramente non sta attormentando la prua della nave. Ora, se vuoi scusarmi... Ok, la ringrazio. Ma che sono io? Ah, certo! Mi sono fatto di droga prima, è vero. Lei sa qualcosa del signor Pinkerton? Quell'idiota? Se n'è andato tanto tempo fa. Molti neanche lo ricordano. Beh, tu sì. Affermava di aver trovato un bottino segreto di tecnologia da qualche parte sulla nave. E poi è scomparso. D'accordo, a quanto pare dovrò fare un giro nel davanti della nave. Vorrei smettere di avere le visioni. Ok, diamo un'occhiata dal fuori. Allora, dunque, il davanti della nave sembra essere staccato. Però lì c'è una passerella. Passerella che però passa davanti ai super mutanti, quindi... Ok, quanto ci fai che è chiuso? Beh, non è chiuso, però non ci posso entrare. E allora mi rimane solo una cosa da fare. Vedere se c'è un modo secondario per entrare. L'acqua è talmente pulita che mi permette di vedere anche sotto. Eccola qua, un'altra entrata. Ok, sto morendo, sto morendo, aiuto. Ok, ok. Ho le visioni e sto per morire di radiazioni. Mangiamoci un radix. Ok, ok, dai che ci siamo. Ok. My lurk, andate via. Maledetti. Orca miseria. Mi prendo a badilate, eh? Cretino. Ok, forse l'effetto... Tu da dove sei uscita fuori, scusami. L'effetto è finito almeno. Ultimamente hai avuto parecchio da fare. Apporre domande. Investigare. Allora è così? Sei una sorta di investigatore? Ti ha pagato qualcuno? Non so di cosa stiamo parlando, signora. In realtà sono una persona dannatamente curiosa. Bene, veniamo al dunque. Mi chiamo Victoria Watts. Lavoro per un movimento i cui scopi sono completamente opposti ai tuoi. Fammi indovinare. Railroads. Certo. E questo che cos'ha a che fare con me? Vuoi essere davvero d'aiuto? Prendi questo. È un componente interno di quell'androide che stai cercando. Non chiedermi come l'ho avuto. Mostralo al dottor Zimmer a Rivet City. Digli che l'androide è morto e che questo era sul cadavere. Lui ci crederà. Certo. Fai così. E Zimmer tornerà nel Commonwealth. E lascerà in pace quel poveretto. Fallo. E avrai salvato la vita di un uomo. E io sono sicuro che lui sarà felice di questo. Io credo che tu non dovessi apparire qui comunque, sorella. Ho paura che farai una brutta fine, mi sa. Credo che tu non fossi programmata per trovarti qua dentro, vero? Beh, mi dispiace, ma sei intrappolata qui ora. Perché ho l'impressione che morirei soffocata qui tu? Sbaglio. Qui c'è qualcosa di altamente infiammabile. Ah, fantastico. Abbiamo trovato uno shortcut. E con questo ci siamo anche tolti il problema del gas. Orca troia. C'erano tanti problemi qui effettivamente, compreso una mina. Mi sembra una zona fin troppo sorvegliata per essere disabitata. Oh, 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 oh. Come dicevo. E allora qualcuno c'è qui. Ah, il dottore. Come diavolo hai fatto entrare? Se ce l'hai fatta fin qui senza morire, credo che tu non possa essere così male. Questa è la parte in cui tu mi dici perché diavolo stai infastidendo un vecchio che vuole evidentemente starsene in pace. Questa è la parte in cui lei mi dice tutto sull'androide invece. Questo androide si chiama Arkness ora. Ah, Arkness, eh. Viene e mi chiede un lavoro sulla memoria. Ho preso memorie nuove e ho sostituito le vecchie. Non credo che qualcuno l'abbia fatto prima. Di certo non qua giù. Alla fine, la tecnologia del Commonwealth non è poi così eccezionale. Ma va. E poi non c'è nessun altro nella zona contaminata in grado di eseguire operazioni di chirurgia facciale. La carne degli androidi è come la nostra. Vuoi delle prove? Ho documentato tutto. In modo da poterlo sbattere in faccia alla dottoressa Lee quando vorrò umiliarla. Odio della vacca boriosa. Sì, comunque è proprio una zoccola. Ma dimmi di questo androide. Dici bene che è una strega. Ha rovinato tutta la mia dannata vita. Ma vedo che non te ne frega niente. Perfetto. E c'è qualcosa che non mi stai dicendo? Oh, ok. Forse non ho cancellato la sua memoria come voleva. Ma l'ho nascosta. Bene. Proprio bene, davvero. Ma è ancora lì. Ancora accessibile. Devi solo usare un codice di richiamo. Ti basterà dire attiva codice di richiamo viola A321. Cioè lo sa lui e non lo sa quell'altro. Non lo sa Zimmer. Beh, è stato molto illuminante. E questo non sembra un esperimento ben riuscito. Porca troia. Ma proprio sull'uscita. D'accordo. È il momento di tirare fuori la verità. Andiamo di nuovo a fare un giro al mercato. Come dicevo, il mercato è dove tutto salta fuori in una città. Dove sono nascosti i più grandi segreti. Allora, Arkness. Sono un po' impegnato adesso. C'è qualche problema? Sì, abbiamo qualche problema. Tu non sei chi credi di essere. Che cosa dovrebbe significare? Tante cose. Senti ragazzo. Non ho tempo per discorsi esistenziali. E non mi interessa sapere di che religione sei. Non è una questione religiosa. Sei un robot e vieni dal Commonwealth. Prego. Senti ragazzo. Hai cinque secondi per spiegare cosa stai cercando di fare qui. Altrimenti te ne andrai da Rivet City passando per l'oblò più vicino. Certo. Beh, ecco qua una testimonianza. Bene, ti asseconderò. Ma è impossibile. Non posso essere un robot. Sono un essere umano. Eh, lo so, lo so. Respio, mangio. Mi sono anche tagliato facendomi la barba stamattina. Sanguinavo. I robot non sanguinano. Perché sei un robot molto avanzato. Mi dispiace, ma non sei umano. Non so cosa dire. Non so cosa pensare di tutto ciò. Devo ammettere che è una prova schiacciante. Ma non ha senso. Com'è possibile? Lo so, lo so, Arkness. Però mi dispiace. Ti devo riportare indietro con la memoria. Mio Dio. Ora ricordo. Ricordo tutto. Da prima. Zimmer. Il Commonwealth. L'istituto. Mio Dio. Tutti i corridori che ho fatto fuori. Tu. Eh, lo so. Problemi etici. Perché? Come? Io? Non importa. Ho solo... Mio Dio. Cosa farò? La mia vita. Tutto. È tutto una menzogna. Già, però puoi fare ammenda. Tu stai scappando da Zimmer. Ti dirò cosa intendo fare. Lo metterò in una scatola molto piccola e lo invierò verso Nord, da dove proviene. Sì, però non avresti motivo. Perché non lasci che ci pensi io? È una minaccia per la sicurezza, vero? D'accordo. Ti autorizzo a procedere all'esecuzione del Dottor Zimmer. Non pensare che questo ti autorizzi ad andartene in giro a sparare a chi vuole. No, no, assolutamente. Solo Zimmer. E quella guardia del corpo, se si mette in mezzo. Certo. Usa la mia arma. La possiedo da sempre, non mi ha mai tradito. Considerala un pegno della mia riconoscenza. Beh, io lo considero come un regalo fra amici. Quindi, ora che sai la verità, cosa farai? Ho due set di memoria. Uno android, uno umano. La gente su questa nave si aspetta che io la protegga. Ed è ciò che intendo fare. Ed è ciò che mi aspettavo. Bravo ragazzo. Ci penserò io, dottore. Fammi vedere questa nuova armetta. A321 Plasma Rifle. Beh, non vedo nulla di diverso dagli altri Plasma Rifle, però... Ti ringrazio del pensiero. Allora, Zimmer. Giochiamo a nascondino oggi? Qualcuno ha visto il dottor Zimmer? Devo mettermi a cercarlo per tutta la nave davvero? Vabbè, sarà più soddisfacente ucciderlo allora. Una gran bella collezione, eh? Beh, non aver timore, guardati pure attorno. Mi chiamo Abraham Washington e sono il responsabile di questa piccola parte di storia americana. Sì, e se anche l'uomo col nome più americano che conosca? Ciascun documento in questa sta, purtroppo, alla collezione manca un pezzo importantissimo. La dichiarazione di indipendenza? Diamine, sì! Quindi fammi indovinare, vuoi che te lo cerchi? Senza la dichiarazione, il resto di queste reliquie non ha praticamente senso. Tu lo sai che quella roba non ha prezzo, vero? Recuperami il documento e ti ricompenserò profumatamente. Che ne dici? Quanto profumatamente? Troverai la dichiarazione di indipendenza tra le rovine degli archivi nazionali. D'accordo, ci farò un salto. Eccoti qua, Zimmer. Senti, ho trovato il tuo androide. Archimess, hai detto? Sì, già, così si spiega tutto. In fin dei conti lavorava per un distretto speciale della polizia del Commonwealth. Sì, polizia. Ed è proprio qui, a Rivet City. Ottimo. Devo aspettare. Trovare il momento opportuno per affrontarlo. Sì, certo. Grazie per il tuo aiuto discreto e per la costante riservatezza riguardo a questo argomento. E ora parliamo del tuo pagamento. Questo modulo da combattimento agirà direttamente sul tuo sistema nervoso centrale. Lo troverai molto vantaggioso. Già, lo troverò molto vantaggioso. Ti ringrazio. Ha aumentato la tua velocità di reazione e le possibilità di colpire usando il VATS. Aha! E quindi se lo usassi adesso... Ciao! Addio, anche la guardia del corpo! Anche tu eri un androide, Zimmer? Beh, direi che è il momento di liberarci della spazzatura. Che ne dite, gente? Ecco qua. Nessuno farà mai domande. E con questo il tuo segreto al sicuro, amico mio. Zimmer è morto. Lo so. Ora è solo un altro brutto ricordo del mio passato. Senti, non so perché hai voluto aiutarmi, ma l'hai fatto. E te ne sarò sempre riconoscente. Ora è arrivato il momento che torni alla mia vita. Buona vita allora, Harkness. E stammi bene. Io torno a cercare mio padre. Senti, non so perché.